Prima di tutto io sono l'uomo che c'è più apparizione su tutto il pianeta Terra, prima, non nazionale, mondiale, capito? E vengo discriminato da una trasmissione satirica che non faccio nomi, prima di tutto. Poi prima di tutto io ho una mia lista, le prossime elezioni che ci saranno la presenterò al Ministero. La mia lista è la lista cinica, la mia lista cinica. Gli puoi sapere i quattro punti quali sono? Gli posso dire? Prego. Del programma? Sta la mia pagina Facebook, Mauro, il disturbatore che non disturba. Io ho quattro punti. Ma perché lo fai? Io lo faccio perché ho il record e non mi viene riconosciuto perché nelle Wall Guinness dei primati, lì se non c'è conoscenze non me lo danno. Io sto tutti i giorni in televisione, non c'è solo immagini fresche, c'è solo praticamente del repertorio, capito? E qui sto tutti i giorni da 14 anni dal 99. Vabbè, grazie. Eh, prego.